Ed eccoci qui con Marco nel suo negozio per parlare proprio dei cappelli della new era, grande moda, streetwear E ecco qui tutta la posizione, Pittsburgh, snackback, bello, belli, stupendo Aspetta, aspetta, il dettaglio principale è la foto di Pittsburgh sotto la visiera Poi abbiamo una versione, questo è pirata, per gli hacker Verde e acido, verde e acido, e nero Bello, vedete, molto curati E qui abbiamo i riders, che è una squadra Sì, sì, una squadra sempre Che è football o baseball? Questo dovrebbe essere NFL NFL, basketball, no, football americano NFL, National Football League Qui abbiamo la stella, bello Anche questo, molto grigio, carino, tecnologico Poi abbiamo uno molto particolare La morte, eccolo, il teschio, carino No, no, questo è The Punisher The Punisher? The Punisher Colui che punisce? Sì, sì Bene A che cosa si ispira in particolare? Beh, dovrebbe essere un telefilm Perfetto Qui abbiamo New York Allora, questa è un'edizione speciale per la città di New York Bellissimo Vediamolo dentro? Sì Carino Vedete? E poi c'è questa qui, snack pack, sempre di New York Rotten Apple Mela Marcia Perché è appunto L'Apple è il soprannome della grande mela Della grande città Della grande città di New York New Era Eccolo, New Era New Era New Era New Era I Giants San Francisco Giants San Francisco Giants San Francisco Giants E' un altro Bello questo E' carinissimo E qui abbiamo sempre New York Il classico No, questo è Yankees Però ha un colore molto particolare New York Yankees Baseball Baseball Molto particolare Ah, questa è da donna Sì, sì Diciamo da donna E' un i-sex Però è il colore Carino Molto carino Ne abbiamo anche altri Le andiamo a vedere Molto fornito Tu ne vendi come il pane Sì Ogley Penguins Penguins Giusto? Sì Penguins Sempre Pittsburgh Sì Questo è Ok 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 Sul ghiaccio No Che ho Che ho Ancora qua Il simbolo del pinguino Poi ci abbiamo Questo è stato fatto Visto che comunque La new era Di casa Di Buffalo Buffalo Il loro simbolo Diciamo è Eccolo qua Il bufalo Nessuno lo sa Il bufalo Yes Buffalo Ecco qui Bello Guardate questo ragazzi Los Angeles Lakers No Los Angeles Bellissimo Tutto colorato Arcobaleno Questo l'abbiamo qui Questo è un altro Poi c'è questo famoso Los Angeles Più classico Bello Questo famoso Dei Lakers Eccolo qua Los Angeles Lakers Questo è Palacanese Non il basket Sì Il basket Poi ci abbiamo Ah carissimo Questo Ma sempre più Questi sono più nuovi Rispetto agli altri No no Sono sempre più Ma molto belle Questo è NBA Sì NBA E questo sono le api I Charlotte I Charlotte Bella Questa è DC E in collaborazione con Ken Block Quello che corre pure Sulla Con l'autorelly Bellissimo Infatti è marchiato Ford Di DC E Ken Block I prezzi non li diciamo Perché siamo su YouTube Per correttezza Non si sa mai Aspetta aspetta Attenzione alla videocamera Molto bello anche questo Bello E di Raptor Raptor Sempre qua E vediamo infatti La mano del Raptor Molto bello Tutti belli Spettacolari E qui ne abbiamo ancora un altro Mustang No 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 Brontos Brontos È una squadra di Che belli I Lakers Abbiamo issi un po' tutti Ecco questo qua Voglio far vedere Pure che carino Questo è particolare Molto bello Molto particolare Bello Con dei colori a contrasto Di qualità Eleganti Di gran moda Questo pure è fantastico Molto colorato È il più bello Perché i colori Sono sempre I colori Bene Andiamo a dire tutto Ripetiamo dove ci troviamo Chiamo a Guidonia Allora Bieti Purtina 116 Guidonia Alle porte di Roma Alle porte di Roma Vicino a Roma Ok Un saluto a tutti Ciao ragazzi Ciao